Numeri da record per Parker Solar Probe La sonda NASA sale sul podio giudicandosi il primo posto come veicolo spaziale che più si è avvicinato al Sole in assoluto. Parker, infatti, ha superato il record finora detenuto dalla missione Helio del 1976, arrivando a una distanza di 42 milioni di chilometri dalla superficie del Sole. Ma questo non sarà l'unico traguardo da ricordare. Nei sette anni previsti di missione, il team Parker prevede di aggiudicarsi anche il premio per il veicolo spaziale più veloce, battendo l'attuale record per la velocità heliocentrica raggiunto da Helio pari a 246 mila chilometri orari. I dati di posizione e velocità vengono monitorati costantemente dal team attraverso i segnali inviati dal Deep Space Network della NASA. Ma la vera avventura di Parker inizierà il 31 ottobre, quando si troverà immersa nella corona solare dove le temperature raggiungono picchi di 1377 gradi. La sonda raggiungerà una velocità di circa 629 mila chilometri orari e per resistere al calore della nostra stella sarà protetta da uno scudo termico di carbonio, spesso 11 centimetri. Per raddrizzare la traiettoria e avvicinarsi al Sole, sfrutterà la trazione gravitazionale di Venere durante i sette passaggi ravvicinati.